E' stato mai in Pinacoteca lei? Forse un 4-5 anni fa Questo è in Pinacoteca, l'ha visto? No, questo ho visto Beste casoma? Sì Vede i patini che dipingeva il sangro? Beh, bellissimo E così è rimasto il sangro E? Cioè, in teoria? No, così è rimasto, non ci sta niente di nuovo Un senso di affaticamento, di sofferenza Un'erede, che l'erede praticamente avrà soltanto debiti e miseria Perfetto Giusto, ho fatto un po' di interpretazioni E' ottima, direi L'ho conosciuto, l'ho conosciuto qui a Castel di Sangro Perché sono andata a vedere la mostra Viene il suo visto male Veramente Alla Pinacoteca? Là c'è Là ci sono Ogni quadro verrà rafficciato con un altar Che lei farà questo percorso e tinerà Sarà una specie di Monte dei Sinai Che lei farà questo percorso e tinerà Grazie a tutti. Grazie a tutti.